Parlavo appunto di divertimento, a Made in Sud ci sono tantissimi comici, questa sera però ce n'è uno qui a Procida che è particolare perché lui è una persona davvero molto schietta, ha un modo di fare comicità davvero originale, diverso da tutti gli altri. Signore è veramente un piacere e un onore accogliere su questo palco Simone Schiettino! Guarda qua, guarda che meraviglia, quanta gente, non avevo dubbi, ma non per presunzione e manco può fare temi di sud, cioè c'è la vita, ma perché quando non sopava, ma che c'è una foto? Siamo a sentire chi? E secondo me parecchie loro non sanno manca chi succa ancora. Spero solo, magari con il microfono l'avevo buono all'inizio, ma avete capito? Spero solo che qualcuno leggendo il manifesto quando ha letto il cognome Schiettino non ha capito una cosa per niente. Voi ridete? Ha già passato i uomini con questo cognome ora, ma... Battuta la mattina e la sera anche da gente che non conosco. L'urdo mi è successo a Pozzuolo e ha giudato a fuori un biglietto di putra, che? Gli ha detto, salve, un biglietto per Procida, andate e ritorno. Io mi ha guardato in faccia e ha detto, ma voi siete schiettino? Gli ha detto, e te va conviene fare andate e ritorno? Non mi ha raggiunto questi soldi. Vedi prima sei riuscito ad arrivare a te. Intanto godiamoci questa fine serata. Siete stati bene? Siete stati bene? E la crisi non mi faccio più il microfono. Vedi? Il mio non mi ha aspettato a fare funzionare questa cosa. Questo è stato un magnifico. Qualcuno che interviene anche con un palmare va bene lo stesso. Si sente bene? Sì o no? Vado a mettere d'accordo perché poi dipende dal ricchio. Sono solo i monitor, fuori si sentono, però stanno con strunzi con l'occhio. Allora fanno la pausa. Ecco. Tanti si non sentono, non ci sono anche strunzi. Ma addirittura lo sento pure assai. Vabbè. Stasera mi è andata così. Fatemi un applauso di incoraggiamento. Anche chi di là che stanno mangiando un ristorante stanno fresco là sotto. Mamma mia. Che serata gradevole, o no? L'anno prossimo la festa della Graziella ha fatto il maroccarazzo. Questo è l'unico spettacolo che ha già cominciato a durare in Coppobalco. Dopo manca la montagna. Perché ogni giorno è sempre peggio. Ha fatto caso. Dopo me stai a casa schiattando i calori. Ma non è quando passa questo calore. Ha picciato la televisione, ha scritto la previsione. Tu guarda e fa... E questo non è niente. E avrei rimanato. Che succede? Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? E lo sta facendo con loro. Ora è più in un mese. Come se ricerì la parte nostra propria... Azzacusa. Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? E' che la non è nata cosa. La pur che fa freddo metto 4-5 cappotti in gualla da pari. Tappare! Ehm! Ma pure fuoco mi serve cucciati cappotti in gualla. I primi di novembre riparto nostro. Siamo ancora in autunno. Po' scena la temperatura. Io sta subito il grado. Già sentivano la gente che dicono... non è quando torna la stagione la purga fa capra una volta che l'ha portato sotto la doccia ha risolto il problema e l'hanno visto in testa di ora con questi anticicloni ma che sta succedendo? ma chi c'è sta? Lucifero ma quando mai ci appartenevano questi anticicloni? mi ricordo quattro anni fa la prima volta verso i primi di giugno ci trovavano i giornali e dicono attenzione per la prima volta stanno per arrivare gli anticicloni dall'Africa giustamente noi ci fottiamo i pauri non sapevo mai che sarà prima che arrivai erano i primi di giugno ho chiamato Scipione 32 gradi ero una scema della famiglia non sapevo niente pensavamo che quella era questa è l'anticicloni il tuo blocco ha fatto fottura siamo abituati agli anticicloni e già sapevo che una settimana se ne aveva Scipione arrivava a 40 37 gradi una settimana arrivai a Caligola e chi sono scorti più? 40 gradi bussava il port la gente veniva aprire e si è venuta a certe facce una settimana arrivai a Lucifero 42 gradi il 15 luglio arrivai al forno e pizza 45 gradi e la certa ma la via diventava croccante sotto su la mattina che le fronte a me c'era una piazza di terra coltivata a patani e tazza paga e c'è tante di panzerò pensate in tazza zettano i rivendicatori e truagioni facciano a casa ci usciavano fra di lì e ha detto a ora i pranzi e ha detto a mia moglie che buona tura hai fatto un misto di carne e ha detto mia moglie no amore ha preso il fuoco troppo tanto ha detto se sei papà la tavola e ha detto che la piazza è un po' e ha detto ma il colmo fu alle tre del pomeriggio mi ha detto che mi ha detto e ti ha detto una piazza di cammelle e ti ha detto che ti porta la piazza e non è e capo appartinato applausi non penso che mi sarei stato scottato tra l'altro quando fa un caldo così esagerato dalle nostre parti tu sei pure fottuto di paura perché mentre stai schiattando sotto sullo mi savi si avvicinano sempre un deficiente sempre un 90% di rivoluzione lo sai manca a chi chi si avvicina tu vieni da lui che fa questo caldo non è normale adesso non va e tu avviate ma che volevi riuscire? cosa succede? un terremoto un mare muore vieni qua in dacqua non esce non mi lasciare così intanto a parte che mi trovo in questo scenario meraviglioso ma a parte il caldo saluto anche un mio carissimo amico Francesco Pomiglia la sua famiglia venne sempre qui a Ville già l'aveva fa perché sennò mi battevano la sua famiglia non è non è la sua famiglia